In compagnia dei ragazzi dell'Associazione Cilento Terra Solidale di Canalonga, che si sono occupati della promozione di questa manifestazione, cioè della Cappella della Fiducia a Canalonga. Allora, qual è stato il vostro compito? Spieghiamo ai telespettatori di Cilento Channel. Allora, il nostro compito è stato quello di collaborare a questa manifestazione, che ci ha reso veramente molto contenti e ci ha reso utili, grazie all'aiuto di Don Luigi e del nostro presidente sempre presente, Daniele Romualdi, e grazie alla collaborazione di tutti noi. Per questa occasione voi avete spiegato nel dettaglio tutte le icone rappresentate in questa cappella. Infatti per noi è molto importante avere a Canalonga una risorsa di questo tipo. Tutti questi affreschi che sono stati ritrovati costituiscono un bene per il paese. È stato un recupero molto bello di questi affreschi e tracce di affreschi che hanno ridato veramente bellezza a questo luogo che era utilizzata come sacrestia, ma adesso con la celebrazione di questa sera invece sarà dedicata proprio per il Santissimo Sacramento. Quindi sarà una piccola cappella proprio collegata alla chiesa dove si conserveranno le specie eucaristiche. E così avvicina il Natale, il suo messaggio di auguri alla comunità di Canalonga, ma anche a tutti i cittadini del Cilento. Abbiamo bisogno di auguri sempre, di augurarci sempre il bene, il bello. Il Natale che celebriamo ogni anno ci ricorda proprio questo, altrimenti corriamo il rischio di entrare in una routine che non ci permette di alzare la testa, di guardare in alto e di guardare le vette della nostra esistenza, del nostro cammino quotidiano. Il Natale ci permette proprio di compiere tutto questo. Auguro veramente che possiamo sempre guardare in alto e non lasciarci prendere dalla trappola delle questioni che a volte sono piccole, ma sono anche molto difficili, soprattutto in questo tempo. Ma non dobbiamo perderci d'animo, per questo il guardare in alto ci crea all'interno speranza nuova per poter spingerci in avanti. Poi con il Natale sappiamo che il Signore sta dalla nostra parte e ci dà una mano, ci aiuta.